Non è il vento, più male, più male, per il Torino, per il Slogrante. Chieto sul primo palo San Ebria e ha portato ancora avanti il Torino. Colpo di testa al palo Milico Vissavic, Vlovic cerca la zampata, non la trova, è marcato da Rodriguez, ma la palla è entrata sul colpo di testa di Danilo. Cosa che prova ad andare di sinistro Bremer, porta avanti la Juve al 71esimo. Va Kostic con il sinistro, la palla passa, Rabiot, fa 4 a 2.